Si va avanti, ricorso assicurato e già promesso da parte dei sindaci. Si torna indietro, comunque si congela la gara, le aziende sono pronte alla battaglia legale. La situazione legata al bando per la distribuzione del gas in 36 comuni bellunesi rimane complicata. L'oggetto del contendere rimane il valore delle reti, una sessantina di milioni secondo il tarifario applicato dal comune di Belluno come stazione appaltante, intorno ai 75 secondo i periti di BIM Infrastrutture, società proprietari degli impianti. Italgas ha presentato l'offerta più competitiva, con l'apertura delle buste da parte della stazione appaltante la società chiede l'assegnazione rifugendo l'idea di una sospensione della gara ex post. Così dai vertici di Italgas arriva la promessa di un ricorso in caso di congelamento con l'ipotesi che anche altri concorrenti possono chiedere l'intervento di un giudice. Intanto i sindaci bellunesi durante l'ultima assemblea di Bacino hanno ritirato la delega di stazione appaltante a Belluno, che ha aperto le buste non può proseguire. In caso di passi avanti i sindaci potrebbero contestare l'applicazione di un tarifario al posto di un altro, l'apertura delle buste nonostante il rallentamento richiesto, per fare luce sul valore al residuo e l'avanzamento della gara nonostante il ritiro del mandato.